Siamo alla fine di via Olmo, una strada provinciale, siamo nei pressi dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, chiaramente i lavori procedono, un lavoro molto importante e strategico proprio perché qui c'è lo sviluppo della quarta gamma, ci sono tante aziende agricole che fanno davvero un lavoro straordinario e ovviamente centrale sarà l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Questa strada arriva all'aeroporto da una parte, quindi collegando Bellizzi e Pontecagnano e ovviamente da questo lato si va sulla strada provinciale Aversana che ci porta da Salerno a Capaccio, opera importante, strategica e funzionale per le imprese e per l'aeroporto.